Quante volte vi siete trovati senza parole quando un collaboratore vi ha posto una domanda importante? Lì il blocco. E adesso che cosa dico per dirla bene? Oppure, apparentemente all'opposto, pensate a una persona, un relatore, che riceve una domanda e ad un certo punto comincia a rispondere, ma chiaramente sta facendo tutto un giro di parole, un panegirico, per cui fa un'introduzione, poi dopo una premessa all'introduzione, poi arriva il dunque. No, però bisogna fare una parentesi, poi la parentesi della parentesi, una nota a piedi pagina, dopodiché facciamo una digressione, poi c'è lo spin-off della digressione. Troppi, troppi contenuti. Effetto, quindi, imbuto strozzato. Se vi siete ritrovati anche in questa situazione, in realtà sono apparentemente due situazioni opposte, cioè blocco non so cosa dire. Blocco è dico troppo perché? Perché il troppo vi paralizza. Davvero non scende più niente dall'imbuto. Oggi vediamo questo tema, il blocco. Lo vediamo in particolare quando rispondiamo alle domande di collaboratori, clienti, colleghi, colleghe. E lo vediamo anche con una strategia in tre passaggi per rispondere alle persone in modo tale che sia tutto più semplice, più facile e rispondere davvero a quelle persone lì, perché questo è fondamentale, in modo tale da migliorare la relazione professionale. Io sono Stefano Todeschi e vi do il benvenuto nel mio canale di Public Speaking Pratico, che è il canale del Public Speaking per manager e imprenditori appassionati. Se questi contenuti vi interessano, beh, allora seguitemi qui su YouTube, su Instagram e su Telegram, dove ci sono dei contenuti speciali ogni settimana. Il blocco. Prima di tutto, chiediamoci... C'è il fuoco? Cioè c'è un incendio in corso? Per cui c'è un'urgenza? Anzi, una fretta? E devo assolutamente rispondere entro un certo tempo, altrimenti va a fuoco tutto? No, non c'è nessun incendio, perciò calma. Questa è la prima cosa. Il primo problema è proprio questo, di avere troppa fretta. Ma l'altro problema è quello di, appunto, voler dire tutto. Molte persone mi scrivono, dico io vado in blocco perché vorrei dire tutto e bene, ma tutto, tutto, tutto cosa? Stai rispondendo a una domanda? Stai rispondendo a un'obiezione, una osservazione? Tutto? Prima di tutto. Prima di questo tutto. C'è il tempo sufficiente per dire davvero tutto? Ma poi tutto? Ma quando sarà mai così esaustivo davvero da poter aver detto tutto? È materialmente impossibile. Diremo allora ciò che potremmo dire in quella situazione, in base alla domanda, alla richiesta, e lo vediamo con tre passaggi, fra un pochino. Per capire questi tre passaggi dobbiamo capire subito quali sono i due problemi più grandi in queste situazioni. Prima di tutto, diciamo la verità, quando noi ascoltiamo una persona che ci fa una domanda, noi ascoltiamo e, ammettiamolo, stiamo già pensando alla risposta, prima ancora che lei abbia finito di parlare. Noi stiamo già pensando a come rispondere bene a questa persona, per fare magari bella figura, oppure per essere efficaci o entrambe le cose. Ma santa pazienza, ascoltare così significa ascoltare male o non ascoltare affatto, perché ascoltare significa ascoltare. Significa allora raccogliere delle informazioni che mi saranno utili poi per rispondere davvero. Perché davvero? Perché risponderò davvero a quella persona lì, in quel giorno, in quel luogo. Collegato con questo c'è il problema del multitasking. Multitasking, cioè fare più cose contemporaneamente. Di per sé è possibile fare più cose contemporaneamente? Per esempio sto guidando l'auto e intanto chiacchiero con le persone che sono con me, a fianco a me o dietro nei sedili posteriori. Questa cosa, anche se bisognerebbe non parlare al conducente, come si legge sui bus, tuttavia la possiamo fare. Perché? Perché le due attività impegnano prevalentemente due aree cerebrali, non perfettamente distinte, ma comunque che non si sovrappongono. Ma attenzione, quando noi stiamo ascoltando una persona che ci pone un'obiezione o una domanda, primo, ascoltiamo. Secondo, se vogliamo subito rispondere, mentre questa persona sta ancora parlando, pensiamo subito alla risposta. Ecco l'errore che dicevo prima. E ho capito, però attenzione, sto pensando alla risposta e sto ascoltando e sto impegnando le medesime aree del cervello, quelle deputate alla cognizione, all'ascolto, al ragionamento logico e linguistico. Contemporaneamente è un lavoro immane. Le stesse aree fanno due cose diverse, distinte, ma non è finita. Perché poi intanto, appunto, la persona sta continuando a parlare. E allora ecco la terza attività. Siccome la sto comunque ascoltando mentre sto pensando alla risposta, la persona va avanti e sto cercando di capire come eventualmente riformulare la mia risposta, perché la persona continua a parlare e io la sento. Almeno tre attività cognitive contemporanee. Pazzesco, pazzesco, una fatica immane. Dobbiamo risolvere. Anche perché, attenzione, per lo più è alla fine dell'intervento che troviamo la parte più succosa da cui poter partire per rispondere bene. Perché come ho cominciato questo intervento? Vi ho chiesto quante volte vi siete... avete perso le parole? Ma quando? Dove? O non vi venivano le parole? Quante volte? Tante volte? Aspetta, non ho finito. Quando un collaboratore... Allunque aspetta, c'è qualcosa di specifico. Vi pone una domanda importante. La domanda importante è il succo. Chiaro che il problema sta all'inizio. Quante volte non vi venivano le parole o arrivavate in blocco? Ma il succo vero sta nella domanda importante perché è quello, quel cardinato attorno al quale ruota tutto e che probabilmente ci ha mandati in blocco. Quindi ascoltiamo fino alla fine. Si potrebbe dire... Vabbè, io domani ho una riunione, presenterò questo progetto e so già che probabilmente mi arriveranno queste e queste obiezioni. Certo. Anzi, mano mano che passi il tempo diventiamo sempre più esperti e esperte e quindi sappiamo quali sono le potenziali obiezioni. Le possiamo prevedere. Allora cosa facciamo? E ci prepariamo prima. Va bene, d'accordo. Le obiezioni saranno x, y, z. Bene, mi preparo una rispostina per x, una rispostina per y, una per z. Va benissimo, d'accordo. Ma attenzione perché qui adesso si annidano due rischi, due super rischi. Il primo, io mi preparo la rispostina, magari me la scrivo anche e scrivendola salta fuori quel bel pensierino detto così bene, con quella virgola al punto giusto, quella parolina e così me la devo imparare a memoria, me la voglio imparare a memoria, ma il giorno dopo magari per una qualche ragione non mi viene quella parolina, non mi viene quella frasetta così bella che scritta era fantastica, ma adesso parlando. Ma perché non mi viene? Non mi viene perché lì davanti c'è una persona reale che magari mi pone una domanda simile a quella che io avevo previsto, ma utilizzando non le identiche parole. Ma attenzione dicendolo con un'emozione tale che mi tocca intimamente, ma attenzione facendo riferimento a qualcosa che è stato detto quel giorno da qualcun altro. Allora non è più la stessa identica obiezione. Io non posso fare il copia e incolla del preconfezionato. E questo è l'altro rischio. Il rischio è che se lo voglio fare comunque il copia e incolla, sto davvero rispondendo a quella persona lì, in quel luogo, in quel giorno, che mi pone quella questione in quei termini esatti, esatta è una parola chiave e lo vediamo fra poco nei tre passaggi. C'è un problema in tutto questo. E il problema è questo. Eccolo qua. Si chiama prestazionalismo. Un problema così grosso che non mi stava neanche tutto in una riga. Il prestazionalismo. Una parola che non trovate ancora sul dizionario, ma presto la troverete. Viene dalla prestazione medica, medico-sanitaria, del servizio sanitario. Cioè dare la prestazione sanitaria per dare la prestazione sanitaria. Ma l'essere umano dov'è? Dare, cioè una prestazione, parlando in pubblico, per dare la prestazione. Cioè parlare bene, parlare efficacemente, per parlare bene, per parlare efficacemente. Cioè dimostrare quindi che noi siamo bravi a parlare in pubblico. No, non è questo. Non è questo. Noi confondiamo in questo modo i mezzi con i fini. Parlare, rispondere, è un mezzo. Il fine è aiutare le persone ad arrivare alla risposta, a risolvere problemi, ad apprendere di più, ad entrare infine in relazione reale gli uni con gli altri. Questo va bene per la vita, va bene per l'attività professionale. Questo migliora le relazioni professionali. Quindi la prestazione è un mezzo. Il fine vero non è più la prestazione, il fine vero è la relazione umana. Ma vediamo allora questi tre passaggi che possiamo già avere intuito. I tre passaggi per parlare improvvisando una risposta a una domanda, a un'obiezione, in modo tale che le parole arrivino. Prima di tutto, eccolo qua, la slide, fuoco, pardon, focus esclusivo. Fuoco, focus, sono sinonimi. Il focus esclusivo. Esclusivo letteralmente significa che esclude, esclude tutto il resto. Inutile, cioè, pensare già alla risposta se ancora non abbiamo raccolto tutti i dati che ci sta dando quella persona. Devo escludere tutto il resto. E che cosa includerò? Beh, solo ed esclusivamente quello che mi dice quella persona. Ma questo vale anche in certe situazioni contingenti. Ad esempio, sono lì, sto scrivendo un'email, entra un collega, una collega, mi dice, devo farti una domanda. Ah, sì, 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 ti ascolto. Ti ascolto e intanto scrivo. No, no, non è vero. Non è vero, stai scrivendo l'email. Allora, o torno dopo, oppure fai pausa un attimo e mi ascolti davvero. Escludi allora delle cose che stai facendo e che non c'entrano con l'ascolto. Escludo allora anche quando sono, per esempio, sto tenendo una presentazione durante una conferenza o durante una riunione interna. Escludo tutto ciò che non c'entra, tutto ciò che è mio pregiudizio. Attenzione, questo è fondamentale, perché quella persona mi sta facendo una domanda. Ma magari io la conosco già e conosco già dove, secondo me, vorrebbe andare a parare. Il pregiudizio non è sbagliato a tuo cuore. No, ci può salvare anche in tante situazioni, assolutamente. Però devo fare un attimo sospensione. Gli antichi dicevano epochè, cioè sospendo il giudizio, escludo momentaneamente il giudizio, sapendo però, attenzione, che lo sto escludendo. Escludendo cioè lo sto mettendo lì da parte un attimo. Poi, rispondendo, lo posso continuamente guardare ogni tanto, ma non devo esserne vittima. Ecco perché focus esclusivo. Secondo passaggio, brevità. Brevità vuol dire che quando ho fatto una affermazione, l'ho fatta, passo a quella dopo. Quando ho detto un concetto, l'ho detto e passo a quello dopo. Evito cioè di fare la parafrasi dei miei concetti. Ma perché? Perché quando noi ascoltiamo una persona e ci dice una cosa, ci parla di un concetto, ci dice una frase. Bene. La frase successiva, noi pensiamo sempre che aggiunga qualcosa di nuovo. Se invece si tratta della parafrasi della frase precedente, noi andiamo in confusione. Un attimo, è una cosa nuova? Ma no, sta dicendo la stessa cosa di prima, ma con altre parole. Ma non me l'ha detto che l'avrebbe detto con altre parole. Forse è una sintesi e poi magari ripete con un'altra parafrasi. Aspetta dunque, che confusione. Quindi arriviamo anche a smettere di ascoltare, perché troppa confusione, troppo caos. L'hai detto? Basta. Silenzio, oppure passa quella dopo. Terzo passaggio è qui, è ciò su cui lavoro tanto. Le esatte parole. Ciò su cui lavoro tanto con le persone che seguo nella consulenza, nella formazione. Tra l'altro, se volete anche voi che lavoriamo insieme, qui sotto troverete il link e vi spiego che cosa possiamo fare insieme. Le esatte parole, lo dicevo prima, i dati. I dati che noi possiamo raccogliere dalla domanda stessa, dalla obiezione, ascoltandola fino in fondo, fino alla fine dove c'è il succo, dove c'è la parola chiave e il contenuto chiave per cominciare la risposta. E cosa ci faccio allora con quei dati, cioè con quelle esatte parole? Le utilizzo subito. Le dico ad alta voce. Parlo ad alta voce subito utilizzando le loro parole, in definitiva, facendo una sintesi della domanda o dell'obiezione. E questo ha più vantaggi. Prima di tutto, io dimostro alla persona che l'ho ascoltata davvero e perciò che sarà probabile che la mia risposta sia davvero centrata su ciò che quella persona avrà detto. E secondo, io prenderò tempo, per cui dovrò improvvisare una risposta? Sì, ma il dire ad alta voce le parole che sono arrivate, e perciò i concetti su cui dovrò rispondere, mi permetterà di riflettere in quel frangente. Terzo, proprio perché avrò la possibilità di riflettere su ciò che davvero mi avrà detto la persona, la mia risposta sarà realmente, probabilmente, centrata sulla richiesta. E poi, se volete approfondire ulteriormente queste tematiche, io vi consiglio di vedere questo video sul focus. Molto interessante perché vi spiego un passaggio critico quando noi parliamo con le persone. E se volete sapere di più sulla consulenza c'è questo link, andate a vedere che è interessante, possiamo lavorare insieme. Ciao!